L'anno concluso del 2014 ha mostrato una stabilizzazione dei volumi raccolti e delle percentuali di avvia riciclo che ormai da alcuni anni si assestano intorno al 75% rispetto all'immesso al consumo. Le quantità sono raccolte non in maniera omogenea in tutto il territorio, infatti di fronte a situazioni di assoluta eccellenza che ormai possiamo identificare nel nord-est, ci sono purtroppo realtà ancora molto arretrate, soprattutto in Calabria e in Sicilia, dove il sistema Conai e anche ricrea il nostro consorzio sta cercando di concentrare i propri sforzi per assistere i comuni nell'implementazione di impianti e di attività di raccolta differenziata.